Da un bomber all'altro abbiamo appena sentito Prusso e Conti, siamo qui con Massimo Briaschi, i tifosi genovani ti ricordano ancora con grande nostalgia diciamo. Prima partita del Genova 6 a 4 nel derby diciamo così, stasera una formazione che sembra tosta quella dalla Roma, che cosa aspettate da questa partita? Ma aspettiamo logicamente di vincere, poi visti anche i nomi che ci sono dall'altra parte sicuramente non sarà facile, in modo innanzitutto che venga il divertimento, poi se viene anche il risultato meglio. Infatti abbiamo visto nella partita prima che l'agonismo non è che sia assente perché vincere mi fa piacere a tutti, abbiamo visto qualche scintilla. Cosa prevedi? Genova-Roma non so se abbiano delle ruggini vecchie, non credo. No, credo di no, ma non credo neanche nella partita precedente ci fossero delle ruggini antiche diciamo, credo che giustamente come dicevi prima, se uno per vincere magari ce la mette tutta, può succedere anche qualche piccolo screzzo, però sicuramente rimane nell'ambito dell'ecito. Questa Juventus che non decolla? Ma direi che domenica è andata abbastanza bene, credo che abbia i giocatori e soprattutto l'allenatore per poter far bene. Ti ringraziamo, buona partita.